buonasera a tutti ben trovati è un grande piacere oggi poter dare il benvenuto alla professoressa elvira migliario che insegna storia romana all'università di trento e che davvero richiede una presentazione rapidissima non ne richiede alcuna tanto è noto il suo lavoro chiunque si occupi di repubblica romana chiunque si occupi di italia italia romana ricorderò davvero soltanto alcune dei suoi contributi in un campo davvero amplissimo di interessi segnalo uomini terre e strade aspetti dell'italia centro appenninica fra antichità e alto medioevo del 1995 libro da più parti e internazionalmente riconosciuto come un modello di come si possa tentare di scrivere la storia dell'italia antica anzi elidendo confini tra antico medievale e moderno in questo senso anche davvero in una lealtà profonda con il magistero di emilio gabba che di il via migliario è stato è stato maestro merita anche ricordare retorica e storia una lettura delle sue azorie di senegapadre del 2007 se non vado errato libro che dà la misura anche qui della dell'ampiezza di interessi e di competenza della professoressa migliario che al problema della cultura politica romana ha dedicato contributi di di grande valore e che intorno a un testo come le sue azorie di senegapadre davvero costruito un contributo di straordinario significato che parte come anche il suo primo libro non ha soltanto valore oggettivo per per quanto ha da dire su senegapadre ma segna alcuni punti di metodo di grande di grande rilevanza e con questi due contributi di grande impegno però non rendono del tutto giustizia alla ampiezza di interessi di elvira migliario è la ampiezza del contributo che ha dato ai nostri studi molti di noi conoscono hanno lavorato con grande profitto sui suoi lavori sulle alpi alpi in una prospettiva di storia locale e però soprattutto in una prospettiva di storia dell'impero alpi come come perno significativo del farsi dell'impero romano in italia e e oltre un quadro geografico più ampio ma occorre anche riconoscerlo credo l'importanza di contributi la professoressa migliario dedicato a vari aspetti della storia della storia degli studi ehm da ultimo appunto il privilegio di essere coinvolto in quel progetto il volume che ha curato con leandro polverini su antichisti e eh grande guerra eh volume che risale diciamo un convegno che si è a trento nel duemila nel duemila e quindico ehm l'organizzazione del paesaggio l'organizzazione dello dello spazio nel mondo romano è uno dei temi unificanti del del lavoro di eh via elvira migliario e eh la sua relazione questa sera ci porta eh a un tema classico che però era senz'altro svolto come sempre nel caso del vera migliario in modalità altamente originali e creative ehm spazi geografici della guerra sociale è il titolo del suo seminario di questa sera e siamo molto riconoscenti per avere accettato il nostro invito prego eh sono io che ringrazio voi e auguro buon pomeriggio a tutti il mio grazie è molto sincero sia a Federico Sant'Angelo che a Mattia Balbo perché con loro invito a partecipare ai Republican Seminars mi offrono l'occasione di presentarvi e mi auguro di discutere con voi eh alcune riflessioni che porto avanti da qualche tempo e che sono state stimolate da un lato dalla rinnovata attenzione di cui la guerra sociale è fatta oggetto da più o meno venticinque anni e dall'altro da una mia oramai lunga consuetudine come nella sua troppo lusinghiera presentazione ha ricordato Federico con la storiografia e la letteratura etnogeografica relative alle popolazioni e alle strutturazioni etnico-territoriali dell'Italia antica ma eh premetto che volendomi attenere al carattere dichiaratamente seminariale di questi incontri eh muoverò da fonti che tutti voi conoscete benissimo ma che possono forse essere riconsiderate alla luce di studi recenti e dunque mi limiterò a proporvi qualche primo spunto problematico eh proveniente da un lavoro che eh ribadisco è ancora eh in progress. Eh il dibattito storiografico generato da riaccendersi dell'interesse per la guerra sociale, un interesse particolarmente intenso come mostra la bibliografia continuamente aggiornata eh nel sito Arcaita di Loredana Cappelletti ha evidenziato una serie di questioni e posto dei problemi che solo in parte sono considerati risolti o pienamente chiariti e che per lo più derivano dall'incertezza sulle motivazioni del conflitto delle quali a tutt'oggi manca un'interpretazione univoca. Eh non è ovviamente possibile ne ho intenzione di farlo tranquillizzatevi ripercorrere qui neppure per sommi capi un problema storiografico che risale alla metà del diciannovesimo secolo e che eh si è enormemente dilatato negli ultimi eh decenni. In particolare se non ho capito male dopo il libro di Moritz del novantotto. Comunque per una sintesi di questa lunghissima storia degli studi rimando al capitolo iniziale eh del volume di Christopher Dart, quello del duemilaquattordici sulla guerra sociale e per gli sviluppi degli ultimissimi anni ai saggi di Ed Bispam nel Companion to Roman Italy e di Federico Sant'Angelo sui People of Ancient Italy. Eh mi limiterò ricordare che l'opinione tradizionalmente più condivisa secondo cui l'obiettivo primario di tutti gli insorti era ottenere la piena cittadinanza romana è stata messa recentemente in discussione dopo che si sono riconosciute e valorizzate eh la grande varietà di aspirazioni e le esigenze diverse presenti eh tra le varie comunità italiche eh sia eh fra di loro sia al loro interno almeno all'interno di molte di loro. Ora sul problema delle motivazioni della guerra è tornato da ultimo Guy Bradley eh che in un saggio pubblicato nel diciannove in quel volume curato da Holt e Scamp e altri eh Empire, Egemonia e Anarch se non sbaglio elenca eh le questioni principali che restano aperte e che eh percorrendole rapidamente sarebbero innanzitutto l'effettiva ampiezza del bacino di quanti erano eh effettivamente interessati ad avere l'optimum ius e la quantificazione di quelli che invece sarebbero scesi in campo con l'obiettivo di sconfiggere Roma o quantomeno di conquistare l'indipendenza da Roma ma Bradley giustamente si chiede quale tipo di indipendenza fosse immaginabile eh nell'Italia di fine secondo secolo avanti Cristo e io mi permetterei di aggiungere che probabilmente ci troviamo di fronte all'ennesima proiezione di nostre categorie moderne su realtà antiche assolutamente non non coerenti con queste eh proiezioni. Un altro problema eh insoluto sarebbe il rapporto tra eh livello di romanizzazione e partecipazione alla rivolta. Eh sappiamo che è stato detto che eh più un popolo era romanizzato meno eh partecipò. In realtà si è visto che questo non è assolutamente vero. Resta ancora da chiarire precisamente il ruolo delle confederazioni tali che vere o presunte perché non si è ancora ben capito dove si potesse effettivamente parlare di eh leghe o confederazioni anche qui sembra aver agito piuttosto il modello greco nella storia degli studi. Eh poi eh altra questione eh cruciale eh i molteplici interessi economici oltre che politici in gioco e dunque le differenti aspettative dei vari gruppi sociali con le inevitabili rivalità tra plebe urbano e plebi rurali tra elite romano italiche eccetera inferiori. È ovvio che sotto a questo grande problema sta la questione cruciale dell'ager publicus italico eh interessato dai tentativi riformisti graccani. Ora tra i temi problematici meritevoli di ulteriore approfondimento che che Guy Bradley elenca compare anche quello della corrispondenza tra appartenenza etnica, confini territoriali o regionali e adesione alla rivolta. Ed è su questo problema eh che è poi eh toccato anche nella sua sintesi nei People of Ancient Italy da Raffaele Scopacasa è su questo tema appunto che oggi attirerò la vostra attenzione perché eh dai resoconti della guerra e delle sue conseguenze sembra emergere che la partecipazione delle singole comunità alleate dipese da una varietà di condizioni e di situazioni eh tra le quali le diverse appartenenze etniche sembrano avere influito solo in parte solo marginalmente eh in quanto che più rilevanti tanto all'origine del conflitto quanto durante la sua evoluzione eh sembrano piuttosto essere stati gli spazi geografici in cui vari attori si muovevano spazi che non corrispondevano necessariamente alle strutturazioni su base etnico regionale che noi tradizionalmente consideriamo e che sono quelle che qui vedete. Quella che emerge dicevo è una realtà di contesti territoriali determinata innanzitutto dai fattori oroidrografici o geoambientali che caratterizzano i vari settori dell'Italia peninica ma almeno altrettanto dalla rete dei percorsi maggiori e minori che interconnettevano le singole comunità e che di fatto ne definivano i rispettivi territori condizionando i rapporti reciproci. Eh lo special turn d'altronde ci ha eh insegnato a considerare lo spazio geografico antropizzato non soltanto come un contenitore delle attività sociali bensì come esso stesso un attore della vicenda storica delle società umane. La rivalutazione dei rapporti spaziali in quanto fattori storici e agenti sociali eh pare spingere inevitabilmente nella direzione di un ridimensionamento dell'effettiva portata delle appartenenze etniche e anche in questo caso sembra valere quello che nota Guy Bradley e cioè che le nostre categorie interpretative appaiono sempre più inadeguate per comprendere e descrivere soddisfacentemente la guerra sociale. Eh tra queste sembra rientrare anche l'etnicità qualora la si voglia intendere come fattore primario e principale criterio interpretativo delle scelte politiche e strategiche che vennero compiute. D'altronde forse qualcuno di voi avrà visto che nella bibliografia minima con cui ho aperto il mio PowerPoint eh compare in fondo un eh articolo di Mario Torelli, uno degli ultimi che il grandissimo archeologo e studioso ha potuto pubblicare che eh il cui titolo conclusioni non rende ragione ma si tratta di una riflessione profondissima e secondo me utilissima eh grazie alla quale possiamo perfettamente renderci conto come il problema dell'etnicità quale chiave ermeneutica sia effettivamente una nostra costruzione che merita continuamente di essere verificata su quello che le nostre fonti ci dicono. È ovvio che l'orientamento di Mario Torelli dalla sua eh eh formazione eh lo porta a considerare come primari i fattori economici e sociali eh ma il caveat nell'uso della chiave etnico identitaria mi sembra validissimo. Comunque eh proverò a delineare almeno per una parte minima solo per qualche spunto una geografia della fase iniziale del conflitto nella misura in cui le fonti lo consentono e sulla scorta delle ricostruzioni che già ne sono state proposte in particolare cito solo le più recenti da Christopher Dart per l'appunto e da Federico Sant'Angelo. Ma ho preso spunto anche da un saggio di Emilio Gabba pubblicato nel novantaquattro nel nono volume della Cambridge Ancient History dove in una riflessione assai articolata che ha lungamente fatto scuola eh per la prima volta almeno a mia conoscenza viene sottolineata l'incidenza non soltanto strategica che la rete dei collegamenti e dei rapporti intra e interregionali ebbe nella storia della guerra a partire dalle origini e poi eh per tutti i suoi sviluppi. E dunque sappiamo che verso la fine dell'anno novantuno morto druso e fallito anche l'ultimo tentativo di giungere a una soluzione politica gli italici cito a piano uno centosettanta di nascosto si inviavano ambascerie prendendo accordi tra di loro e si scambiavano ostaggi come pegno di fedeltà. Allora questa notizia indica chiaramente che una qualche mobilitazione era già in corso ma anche che questa mobilitazione prevedeva la stipula di alleanze formali come indica lo scambio di ostaggi. Alleanze formali come prevedevano rapporti tra entità statuali diverse tra le quali non esistevano relazioni preesistenti o legami pregressi quali ci aspetteremo in caso di una riconoscimento globale condiviso generalizzato dell'appartenenza etnica. Ora a piano attesta appunto che Asculum aveva inviato impegno a un'altra città il ragazzo riconosciuto poi da uno degli informatori mandati da Roma nelle varie località da tenere sotto controllo e perciò subito maldestramente il pretore Serviglio era intervenuto ad Asculum con la ben nota conseguenza della strage dei romani presenti in città che segnò l'inizio dell'insurrezione. Siamo ai paragrafi centosettantatrei del primo libro di Appiano. Ora a margine ritengo che qui con Romani Appiano indichi individui in possesso dell'optimum ius e non necessariamente provenienti da Roma o di stirpe romana. Romani che ad Asculum dovevano avere domicilio affari visto che dice Appiano all'ecidio segue il saccheggio dei loro beni. L'uso di Romaios a indicare un civis romanus ricorre peraltro anche nelle parole che Diodoro Siculo attribuisce al buffone Saunion il quale sapete il noto episodio riportato in Diodoro 37 frammento 18 Gukowski 12 Walton per ringraziarsi il pubblico ascolano inferocito che aveva già ammazzato un altro performer prima di lui dice Ugar Eimi Romaio Salomoio Sumon guardate io non sono un romano sono uno come voi uguale a voi quindi uno che non ha la cittadinanza infatti specifica dopo sono soggetto ai fascis. Appiano non specifica quante e quali fossero le comunità cittadine o non cittadine con cui gli ascolani avevano scambiato stagi ma di fatto lo indica subito dopo dicendo che cito tutti quanti popoli vicini et etne geitona agli ascolani svelarono i loro preparativi e procede a piano elencando nell'ordine un primo gruppo Marsi, Peligni, Vestini, Marrucini, poi Epitutois oltre a Costoro ma si potrebbe anche intendere dopo Costoro quindi in un secondo momento Picentini, Frentani, Irpini, Pompeiani, Venusini, Iapigi, Lucani, Sanniti e tutti quanti gli altri dal fiume Liri fino al Golfo dello Ionio. Ora questo elenco si apre con i Marsi. La posizione occupata da loro in apertura della lista è presumibilmente dovuta all'essere stati primi a prendere le armi il che spiegherebbe anche la definizione di Bellum Marsicum e non certo a una loro vicinanza geografica agli ascolani perché tra gli ascolani e i Marsi, lo vedete benissimo, si interponevano i Peligni, i Vestini, i Marrucini ma come vedremo tutti questi popoli erano compresi in una realtà macro regionale definita da una rete di collegamenti che ne permetteva le connessioni al suo interno e con l'esterno. In realtà il gruppo etnico effettivamente limitrofo agli ascolani erano i pretuzzi con i quali essi avevano condiviso la sconfitta inferta da Maniocurio Dentato nel 290, sconfitta che aveva dato avvio a un imponente piano di deduzioni coloniali in area medioadriatica. Io le ho sintetizzate nello specchio che vedete a fianco. In territorio pretuzio, il territorio che vedete tratteggiato in blu sulla slide, furono fondate la colonia latina di Adria, pare già nel 289, quindi un anno dopo la campagna e probabilmente forse negli stessi anni 80 o al più tardi, entro un ventennio, la colonia civium romanorum di castrum novum, l'odierna Giulianova. La prima fase di questa colonizzazione costituì l'effetto concreto di due eventi tra loro collegati. Innanzitutto la sconfitta del 295 al torrente Sentino dei Galisenoni, alleati con gruppi di Umbri, Etruschi, Sabini, Pretuzzi, Sanniti e Lucani. E poi appunto la campagna del 290 con cui il dentato aveva definitivamente sconfitto i Sabini dell'interno e appunto i Pretuzzi e quindi aveva consolidato il completo controllo del versante appenninico verso il mare Superum, l'Adriatico. Ora in particolare il territorio Pretuzio sembra essere stato in gran parte occupato dagli agri della colonia civium romanorum di castrum novum messa a controllo della costa e di Adria che era una colonia latina a controllo dell'entroterra. Un'entroterra dove esisteva un centro Pretuzio antico con una frequentazione risalente probabilmente alla fine dell'età del bronzo, Interamia, che era divenuto sede di un conciliabolum secondo una notizia dei Gromatici. Quindi era divenuto il centro aggregativo, come solitamente avveniva, di assegnatari di terreni in zona. Assegnatari che sarebbero stati iscritti dopo il 241 alla Tribu Velina, l'unica, l'ultima di quelle istituite. Allora questi assegnatari probabilmente furono stanziati già negli stessi anni di istituzione delle due colonie, quindi fra gli anni Ottanta e gli anni Sessanta del Terzo Secolo, con uno schema che è assolutamente sovrapponibile a quello che portò allo stanziamento nel Piceno, colonie e assegnazioni Vieritane. La mancata menzione dei Pretuzi, però, tra i popoli vicini agli Ascolani, nell'elenco a Pianeo di cui ho detto, può indicare che cosa? Che essi, allo scopio della guerra sociale, non erano più percepiti come un gruppo consistente e coeso e di fatto venivano assimilate agli altri Piceni. Si trattava forse di una conseguenza delle trasformazioni demografiche indotte sul lungo periodo dalla colonizzazione, i cui effetti tuttavia dovevano essere relativamente recenti, visto che ancora Polibio, va bene, probabilmente appoggiandosi su Fabio Pittore, quindi su una fonte di fine terzo secolo avanti Cristo, descrivendo la marcia di Annibale lungo l'Adriatico, distingue ancora precisamente il territorio Adrianus di Adria da quello pretuziano. Il luogo è Polibio 3, 88-3. Ora, un breve schema degli interventi di deduzione colonialia o di assegnazione Vieritana che si succedettero fra il III e il II secolo avanti Cristo in area medio-adriatica, quello appunto che vedete qui, rende immediatamente evidenti l'entità dell'occupazione territoriale e le dinamiche del popolamento che ne conseguirono. Alle deduzioni colonialie, come ho detto, seguì l'invio massiccio di assegnatari di parcelle Vieritane, un invio che si intensificò a seguito dell'Alex Flaminia del 232, stanziamenti che avvennero in nuclei distribuiti da nord a sud su tutto il territorio che vedete qui raffigurato, l'intera regione, che dovette pertanto risultare effettivamente diffusamente occupata da cittadini romani, soprattutto nella fascia costiera e nell'immediato entroterra, proprio dalla Gergallicus giù fino appunto a quello Pretuzianus. Un popolamento che si capisce fu numericamente imponente e capillare distribuito su tutto il territorio e a questo punto acquista una sua ragione d'essere la notizia dell'enorme quantità di armati che Pompeo Strabone riuscì ad arruolare nel Piceno. Allora, come ha notato Gino Bandelli nell'ultimo di una serie di articoli dedicati proprio al Piceno, nella regione nel 90 avanti Cristo esistevano in tutto quattro comunità di soci, che costituivano delle enclaves completamente circondate da Gergallus. Per di più una di queste quattro comunità firmum era la famosa colonia latina che sarebbe stata l'avamposto della resistenza romana, la roccaforte dello stesso Pompeo Strabone e quindi le comunità propriamente alleate a seguito di Federa erano in tutto tre. La greca Ancona, di cui non si capisce bene che cosa abbia fatto ma non sembra coinvolta nell'insurrezione. L'Umbra Camerinum che come sappiamo non partecipò, d'altronde dieci anni prima Mario aveva dato la civitas optimo iure alle due famose corti di Camerti. Quindi restava solo Asculum e non è sorprendente che sia stata l'unica a ribellarsi. Ciò nonostante il passo di Appiano sullo scoppio della rivolta, il solito 1-174, cita anche i pichentinoi tra coloro che si unirono agli Ascolani e ai primi sorti. Cioè i pichentinoi sono nel gruppo epituto, quello che si sarebbe unito in un secondo momento. E quindi che nel Piceno l'adesione al conflitto non si limitasse agli Ascolani può essere confermato dal successivo andamento della guerra perché sappiamo che i piceni potevano contare su risorse umane, su mezzi tali, da consentire loro sia di esprimere i leader della rivolta, alcuni dei più autorevoli, sia di sconfiggere Pompeo Strabone a Falerio nel 90 avanti Cristo, costringendola a rifugiarsi appunto a Firmum, a Piano 1-204 il luogo. In ogni caso mi sembra evidente che gli Ascolani sono presentati come un'entità diversa, distinta dai restanti piceni. Torniamo rapidamente ai popoli che a Piano elenca come loro vicini gli etne Geitona e cioè Peligni, Vestini, Marrucini e Marsi. Tutti costoro sono accumunati da una storia territoriale il cui tratto più evidente mi sembra l'assenza di insediamenti coloniari o derivanti da assegnazioni veritane. Unica probabile eccezione il territorio della Vestina Pinna per il quale i gromatici attestano una limitazio di origine incerta che viene generalmente attribuita a interventi cesariani o triunvirali ma che per esempio Ettore Paes ipotizzava che fosse molto più antica e da mettere in relazione con quella del vicino Ager Adrianus, cioè il territorio di Adria. Cosa vuol dire? Se questa ipotesi trovasse una conferma, avesse un fondamento, ci troveremmo di fronte a un nucleo in territorio vestino di cittadini romani assegnatari di parcelle veritane in un numero consistente la cui presenza incidendo nel lungo periodo sulla composizione etnica della zona potrebbe essere adotta tra le cause dello schierarsi dei pinnenses dalla parte di Roma unici tra tutti coloro che avevano contratto il Fedus o del 304 del 302 con il quale erano stati vincolati a Roma, Marsi, Peligni, Marruccini e appunto i Vestini. Sapete la fonte Livio ma anche Diodoro in questo caso. nel generale contesto dell'insurrezione la fedeltà a oltranza di Pinna fu avvertita come eccezionale al punto da diventare un exemplum retorico. Lo troviamo già nella retorica de Renium che di fatto riproduce in tempo reale spezzoni di argomenti che di sicuro erano stati discussi in Senato e che avevano poi dato luogo appunto a esercitazioni retoriche. L'esempio di Pinna solitamente è appaiato dalle nostre fonti con quello di Alba Fucens ma si tratta di due casi completamente diversi perché Alba Fucens era una colonia latina di 6.000 famiglie dedotta già nel 303 avanti Cristo nel territorio degli Equi e proprio, se guardate, ha controllo quasi sul confine col territorio dei Marsi. Quindi non era affatto eccezionale, Pinna restava di fatto un unicum. Ora, come ho accennato poco fa, i popoli che a piano cita nel primo gruppo degli insorti si collocavano in una realtà macro regionale che in ottica geografica possiamo indicare come appenninico-adriatica e che corrispondeva alla grande area dell'irradiamento protostorico della cultura sabellica o safina, estesa appunto dalla sabina interna reattino-amiternina fino alla costa ed è finita da una rete di percorsi di collegamento in buona parte utilizzati già nell'età del bronzo che le strade costruite da Roma a partire dal III secolo avanti Cristo avevano ricalcato, razionalizzato e potenziato o rettificato. Come appunto Gabba aveva sottolineato nel saggio del 94, che era poi una summa, un distillato del suo celebre commento ad Appiano I del 56, le strade che i romani avevano costruito a partire dalla fine del IV secolo sulle traiettorie della loro penetrazione nell'Italia penninica, durante la guerra sociale riassunsero il ruolo strategico militare per il quale erano state originariamente tracciate e che poi era venuto meno. ora però potevano essere utilizzate a ritroso dagli insorti e quindi consentire loro di portare l'attacco fino a Roma, una volta ovviamente superato l'ostacolo delle colonie latine collocate sulle stesse strade che saranno la vera chiave di volta della resistenza e poi della vittoria romana. Le strade principali che da Roma conducevano nella via Flaminia le conosciamo tutti sono queste, ma innanzitutto Valeria, Salaria e Flaminia. La via Valeria o meglio Tiburtina Valeria da Tivoli penetrava verso la Marsica, la attraversava e raggiungeva Corfinium che Strabone definisce la metropolis dei Peligni. Strabone la descrive solo fino a Corfinium perché il prolungamento fino alla foce dell'Aterno sarà un'iniziativa dell'imperatore Claudio. Per quello che riguarda il primo tratto di questa strada mancano attestazioni certe sulla datazione, ma è inevitabile che un primo tracciato sia stato utilizzato nel corso della campagna conclusa col Fedus del 304 e possa dunque risalire come alcuni ipotizzano già alla fine del IV secolo avanti Cristo. L'altra strada di penetrazione e arroccamento, diciamo, è evidentemente la Salaria, di cui almeno il primo tratto, quello che risaliva alla Sabina era antichissimo come indica l'odonimo non consolare e la Salaria, almeno questo primo tratto, aveva costituito l'asse lungo il quale si era svolta la campagna di manioccurio dentato e pertanto il suo prolungamento dal Reattino all'Amiternino e poi la discesa fino al Piceno è inevitabilmente anche esso databile all'inizio del III secolo avanti Cristo. Altro è ovviamente la ristrutturazione completa che queste strade ebbero in seguito e soprattutto in età augustea in quel piano organico e completo iniziato da Augusto e portato avanti da Claudio che coinvolse, come sappiamo, anche altre zone dell'Italia e provinciali. Terza, ma non ultima, la via Flaminia, costruita da Flaminio, lo sappiamo, durante la sua censura del 220-19, che però derivava anch'essa dall'unione e dalla rettitica di più spezzoni preesistenti, lungo i quali si erano mossi i traffici e i trasferimenti di uomini e di cose che avevano investito il Piceno intensificandosi dopo il 290. Quindi non è pensabile che fra la colonizzazione che abbiamo visto massiccia nel Piceno, nell'Ager Gallicus e nell'Ager Pretuzianus non ci fosse una strada che consentiva di giungervi direttamente da Roma. Senza fare giri più lunghi. Tra l'altro a margine Michael Crawford ha dimostrato con quell'articolo del 2002 sui Compte en vue e poi ripreso in alcune pagine negli atti della rencontre sulle tribù pubblicati nel 2010. Michael appunto ha dimostrato che le grandi strade avevano di fatto agitto sullo spazio politico perché il sistema di voto e di arruolamento per tribù era stato riorganizzato sulla base delle vie consolari e delle regioni che le vie consolari determinavano. Ora come tutte le strade principali anche queste di collegamento con l'Adriatico erano affiancate da una viabilità minore collaterale tra cui avevano un'importanza cruciale i percorsi che permettevano di valicare i passi appenninici. Ora ve ne faccio vedere qualche esempio significativo sono delle carte che ho malamente devo dire un po' di sghembo riprodotto da un bellissimo libro di recente uscita che è dedicato agli scavi che Pierluigi Dallaglio e Carlotta Franceschelli hanno condotto per 15 anni a Ostra. Il titolo del libro è riduttivo perché appunto allude agli scavi di Ostra ma non è uno dei soliti libri d'archeologi se me lo lasciate dire dove ci sono solo schede di scavo c'è una riconsiderazione complessiva della storia del territoriale di tutta quest'area medioadriatica. Allora in questa carta che vedete sono evidenziati i valichi di accesso alle valli dell'Esino e del Chienti ed è per il controllo di questi valichi dimostrano Dallaglio e Franceschelli che era stato fatto il trattato con i Camerti. A fianco vedete una carta che mostra la viabilità dell'Ager Gallicus e del Piceno tra Sena Gallica fino appunto a Firmum. Questa è la viabilità anteriore alla costruzione della via Flaminia. C'è questa famosa salaria gallica che come sapete è stata rivelata da una iscrizione oramai notissima. Salaria gallica perché veniva appunto dall'Ager Gallicus. La slide successiva invece illustra la viabilità dopo il 220 che si configura come un vero e proprio sistema integrato costituito dalla Flaminia e dai percorsi preesistenti. Ora è a mio parere ipotizzabile che esiti simili, che è tutto da verificare ovviamente, si fossero prodotti anche in almeno alcune delle aree attraversate dalle altre grandi direttrici appennini quadriatiche. Ora, il problema che mi sto ponendo e che oggi sottopongo a voi è se e in che modo il tema delle appartenenze etniche come chiave interpretativa del posizionamento di gruppi e di comunità nella guerra sociale non sia da rivedere alla luce della situazione determinata da reti di collegamento di questo genere la cui estensione e capillarità erano in grado di determinare nuove gerarchizzazioni delle strutture territoriali e delle strutture insediative valorizzando rapporti preesistenti oppure creandone di inediti e di conseguenza, se non valga la pena, di riconsiderare il grado di incidenza che i contesti geospaziali potevano avere sulle dinamiche degli schieramenti e delle alleanze. Mi avvio a concludere e lo faccio portando un esempio minimo ma a mio parere significativo. Devo tornare alla carta. Allora, descrivendo la Sabina e descrivendola sempre lungo la Salaria, dunque partendo da Roma e risalendo verso il Reattino e arrivando alla conca Amiternina, Strabone parla anche del Vicus di Foruli. Sappiamo che questo Vicus ha poi una storia istituzionale importante, ha attestazioni epigrafiche numerosissime e sappiamo che viene poi appunto in qualche modo, non possiamo dire municipalizzato perché resta un Vicus, ma monumentalizzato in forma paraurbana a partire dall'età augustea. Oggi è la frazione di Civitato Massa nel comune di Scoppito a una decina di chilometri dall'Aquila. Allora, Strabone arrivato a Foruloi, come lo chiama, lo descrive come, cito, uno sperone roccioso adatto per natura più alla ribellione, pros apostasin, che all'insediamento. Il passo è 531. Allora, questa descrizione riecheggia a dei moduli stilistici che ritroviamo in quanto, Strabone dice a proposito, di altre località per le quali disponeva di informazioni presumibilmente posidoniane, ed è su questo che avrei voluto sentire Federico per l'appunto, nel loro ruolo durante la guerra sociale. Ad esempio, Ascoli è rappresentata come luogo fortificatissimo Erumnotaton Corion, in quanto sito d'altura, circondato da mura e dai monti circostanti, e sappiamo appunto che Ascoli è la roccaforte da espugnare, quella centrale nella storia della guerra per la parte settentrionale del conflitto. Allora, il sospetto che mi è venuto, correggendo un'idea che avevo precedentemente, di cui avevo appunto espresso qualcosa nel libro del 95, il sospetto che mi è venuto è appunto che anche Foruli possa avere partecipato all'insurrezione del 90 avanti Cristo, e non alle successive lotte triunvirali, come comunemente si ritiene, come anch'io appunto ritenevo. Però c'è un fatto, i Sabini compaiono solo incidentalmente nei resoconti della guerra, tant'è che nessuno li considera come attori del conflitto. Ma se noi consideriamo che questo Vicus Foruli, qui non c'è, ma fate conto, è praticamente vicinissimo ad Amiternum, dicevo, se consideriamo che il Vicus si trovava all'estremità occidentale della piana oggi aquilana, quindi al confine del territorio vestino a cui era collegato perché si trovava sulla stessa rete di percorsi pastorali diramantisi dal tratturo che poi è diventato il tratturo magno l'Aquila Foggia ed è poi il percorso in parte, come sappiamo, da strade consolari, un eventuale convolgimento dei Forulani sarà derivato dalla loro vicinanza con i vestini ribelli e non dall'appartenenza a un etnos, i Sabini, la cui partecipazione alla guerra sembra essere stata del tutto incidentale, del tutto marginale e possiamo pensare limitata a poche comunità della Sabina più interna, cioè del lembo più interno della Sabina, che è poi la parte oggetto della conquista della campagna di Maniocurio Dentato del 290. Insomma, per concludere veramente, la sovrapposizione tra identità etnica e territorio regionale è un'idea, a mio parere, da ridiscutere, anche alla luce delle teorizzazioni che ne sono state fatte di recente dagli esponenti della New Geography. Rimando, per un'idea complessiva, all'ampio status questionis che ne ha fatto Filippo Carlana nel capitolo iniziale del suo The Birth of Italy. Non solo per quanto riguarda il settore medio-adriatico che ho sommariamente indagato oggi. Per esempio, credo che sarebbe altrettanto interessante ampliare il campo di indagine in questa prospettiva alle regioni meridionali per valutare eventuali effetti, conseguenze della Hannibal's Legacy sulla geografia dell'insurrezione. Visto che anche per esempio per la Puglia Strabone dice che l'area risente ancora delle conseguenze della guerra Hannibalica, probabilmente non tanto ai tempi di Strabone quanto ai tempi della sua fonte che appunto dovrebbe essere Posidonio. In ogni caso, spero di essere riuscita a convincervi, a dimostrare che la rappresentazione che le fonti ci danno delle varie regioni e dei rispettivi popoli coinvolti nella guerra sociale non renda in realtà conto di una situazione che era l'esito di interventi di ristrutturazione del territorio ma anche degli assetti etnici e degli equilibri sociali che si erano succeduti per almeno due secoli. Vi ringrazio. Molte grazie davvero, molte grazie davvero per questa relazione che per un verso appunto ha posto una serie di questioni e di elementi di orientamento di carattere teorico e metodologico sui quali sicuramente ci sarà da discutere e poi però per altro verso ci ha riproposto una serie di documenti più o meno noti, una serie di testi più o meno noti sui quali davvero c'è ancora molto da riflettere. Io apro subito la discussione. Domande, commenti, interventi? Mattia, prego. Posso? Grazie. Innanzitutto grazie professoressa per questo bellissimo seminario che è veramente, veramente utile dal punto di vista metodologico proprio. C'è un aspetto che, più che una domanda è un commento ma da ignorante veramente del tema. A me ha colpito moltissimo il discorso che ha fatto sulla viabilità cosiddetta secondaria che secondaria non è in questo discorso perché mi fa venire in mente l'enorme contrapposizione che si fa proprio anche a livello non solo scientifico anzi ormai a livello scientifico è superato diciamo a livello divulgativo tra il mondo antico e il mondo medievale. Questo tipo di viabilità viene presentata come tipica del concetto medievale di strada area di strada mentre si tende sempre a contrapporre al sistema romano basato sulle vie consolare gli assi portanti della viabilità e quindi si ragiona in quell'ottica lì come se i romani non avessero utilizzato altre tipologie di movimento è adattato anche le tecniche belliche il modo di fare guerra guerriglia a queste diverse realtà io l'ho studiato questo per i passi alpini si tende sempre a immaginare la viabilità romana faccio l'esempio nella valle di Susa perché c'era la strada comoda tipicamente romana quel medioevo invece si immaginava un'altra realtà perché data la fase come dire frammentata e decadente si usava la viabilità secondaria ecco a me sembra che lei abbia fatto rivedere una forte riconsiderazione di questo aspetto una realtà che in realtà permette di essere paragonata a porti per la la strutturazione tipica dell'utilizzo politico delle strade spero di essermi spiegato l'ho letto un po' male no si è spiegato benissimo io le dico sono comunque perplessa ad applicare to court la definizione sergiana di area di strada alla alle strade romane perché se non ho capito male nelle intenzioni di Sergi area di strada intendeva un sistema che di fatto sostituiva le grandi strade precedenti mentre invece per il mondo romano noi ci troviamo di fronte a una coesistenza cioè sono problemi che sono stati sollevati da quel libro come si dice seminal quello di Ordene Porsell che ci ha insegnato che ci sono delle forme di connessione che sono altre rispetto a quelle principali e quindi secondo me c'è ancora un distinguo da fare fra un'epoca come quella diciamo della piena funzionalità delle grandi strutture romane secondo me è forse più benché anacronisticamente insostenibile pensare a quello che oggi avere le reti dell'alta velocità e continuano accanto quelle dei trasporti locali le grandi autostrade e la viabilità locale che solo in determinate situazioni e condizioni è stata dismessa a causa della costruzione delle strade principali a me ha fatto veramente impressione quello che Dallaglio e Franceschelli hanno ricostruito per il Piceno perché ovviamente io non mi ci sono potuta soffermare ma questo sistema dei passi dei valici appenninici è veramente quello su cui i romani si affacciano e decidono a quel punto che arrivano al mare non ci fosse stato questo non ci fosse stata questa rete di percorsi d'altura anche se parliamo di passi non altissimi sono tutti sotto i mille metri sarebbe non sarebbe stata concepibile neanche l'avvicinamento a queste zone poi da lì è ovvio che parte il progetto perché non si può far passare una legione su un sentiero di valico ed è poi il motivo che su larga scala porterà la viabilità transalpina però quando poi si vede che questa è la situazione definitiva in questa situazione c'è la flaminia ma c'è ancora tutto il resto non so se il resto non scompare il resto non scompare il resto non scompare per ragioni economiche la stessa ostra che di cui non si sapeva nulla finché non sono stati compiuti questi scavi nasce come un centro spontaneo lungo la strada che da Senigallia portava appunto ai passi appenninici lo vede lungo la valle del torrente Misa poi diventa nel secondo secolo sede di una prefettura il che ci ha insegnato Anna Rosa Gallo vuole dire che attorno c'è una concentrazione di romani nasce come un centro di servizi pare che la roba più antica siano delle ufficine di Fabro Ferraio perché i contadini della zona dovevano farsi fare gli attrezzi e ci sono probabilmente delle vasche di conciatura perché tutto il bestiame che scendeva da questi valici appenninici che veniva allevato transumalmente veniva aveva poi un indotto innanzitutto di pelli conciate poi diventa municipio ma è un municipio effimero perché è ovvio che risponde questa è una zona che poi devastata dalla guerra greco-gotica perché è sulla direttrice che da Ravenna punta su Roma quindi però si vede benissimo nella storia di un insediamento di quel tipo come procede l'occupazione di un territorio e lungo quali direttrici a quelli che abitavano a Ostra della Flaminia non interessava nulla perché continuavano a agire a fare le loro cose lungo questa rete di percorsi locali allora dico quando noi abbiamo questa situazione cioè l'impressione mia è che quando Strabone ci descrive i popoli italici lungo le varie strade fotografi una situazione che è appunto una fotografia ma questa è una situazione che si crea nel corso di 200 anni allora come facciamo a spiegare la guerra sociale se non ci rendiamo conto di quello che in tutti questi territori può essere successo nei due secoli precedenti vi dico per alcuni sappiamo molto Piceno Agergallicus sappiamo moltissimo io spero che procedendo il lavoro in altre aree sia possibile ricostruire delle situazioni altrettanto evidenti ecco e a quel punto rileggiamole queste fonti ma sulla base sulla base di queste cose grazie grazie a voi grazie abbiamo una richiesta di intervento da parte di Manfredi Zanini prego sì buonasera anzitutto grazie moltissimo per questa lezione che è stata molto stimolante dunque la mia domanda in realtà è bipartita nel senso che da un lato vorrei chiederle se a suo modo di vedere è possibile restituire a determinate aree a determinate costellazioni geografiche del tipo di quelle che ci ha introdotto qui ci ha introdotto lei oggi dei corrispondenti interessi politici sociali economici che possono aver motivato l'ingresso delle comunità nel conflitto aperto con Roma e cioè sono d'accordo anch'io che secondo me provare a spiegare la guerra sociale riconducerlo a tutto un motivo è semplicissimo in realtà bisogna cercare di costruire più nel dettaglio i singoli momenti i singoli popolazioni i singoli comunità e così via e mi domandava se ci può essere una corrispondenza tra singole aree i singoli contesti e determinati motivi la seconda domanda è in parte legata a questa nel senso che io mi sono occupato della guerra sociale soprattutto per lo studio della monetazione degli insorti italici e insomma quello che mi ha sempre colpito è stato l'impulso il tentativo di dare un'identità a quello che era il moto insurrezionale complessivo di dare un'omogeneità almeno identitaria a questo moto quindi mi domandavo come dialoga questa impostazione geografica che restituisce una ampia complessità al fenomeno un'ampia frammentazione vorrei anche dire al fenomeno con dall'altra parte uno stimolo a restituire un'identità pure al moto di insurrezione contro Roma la ringrazio allora se ho capito bene lei mi chiede in che modo questa strutturazione del territorio può avere un confronto su una situazione socio-economica corrispondente è ovvio che la risposta abbiamo un illustre epigrafista che ci ascolta Gianluca Gregori la risposta ce la danno innanzitutto i documenti epigrafici e a mio parere anche quella è una documentazione che va rivalutata alla luce proprio del dato territoriale e secondo me non ovunque ma in alcuni casi particolarmente fortunati perché particolarmente documentati sarà a mio parere possibile trovarla questa corrispondenza di cui lei giustamente si pone la questione per quello che riguarda la questione identitaria perché è poi quello che lei mi chiede ma insomma questi battono monete dove c'è scritto Italia io guardi devo ancora riflettere su questa questione ma non sono sicura che quella monetazione ma è questo la domanda la giro a lei abbia avuto diffusione in tutte le aree interessate dalla rivolta mi spiego secondo me non so fino a che punto fosse diffusa la consapevolezza di essere l'Italia contro Roma come le monete indubitabilmente indicano in tutte le aree coinvolte nella rivolta non so se mi sono spiegata perfettamente la ringrazio molto no grazie a lei altri interventi domande osservazioni io devo dire insomma mentre altri colleghi raccogliano le idee trovo vari punti davvero di grande interesse di profondo interesse se c'è davvero una big idea proprio se mi permetti che mi colpisce in questa considerazione no scusami dicevo che se c'è una big idea che mi sembra di se mi permetti l'espressione che mi sembra di poter identificare nel tuo nel tuo discorso è quello di quella di cercare di comprendere la guerra sociale alla luce dei due secoli precedenti mentre nell'ultima generazione nell'ultimo quarto di secolo diciamo si è cercato di leggere la guerra sociale anche con buone ragioni alla luce di dinamiche di breve termine tu invece stai proponendo con argomenti io credo estremamente stimolanti e significativi di allargare lo sguardo ad un passato molto più profondo e molto più complesso qui mi sembra ci sia proprio davvero uno spostamento dell'asse del discorso che tu ci stai proponendo sul quale io personalmente mi sento in dovere di riflettere nelle prossime settimane nei prossimi mesi perché davvero le implicazioni di questo tuo discorso vanno secondo me svolte con grande cura ho una ho una domanda anche qui di carattere di carattere generale che in parte come dire ritorna sulla questione della viabilità ma insomma ha anche poi una implicazione implicazioni più ampie ed è la seguente lo sforzo bellico della della coalizione italica è sicuramente stato reso possibile da una vasta accumulazione di ricchezze di mezzi finanziari se ne attribuisce nella letteratura certamente l'ho fatto anch'io l'origine in larga misura quantomeno al coinvolgimento nei traffici mediterranei nel commercio mediterraneo nella diaspora mediterranea ecco io mi chiedo se anche alla luce di quanto tu ci hai mostrato in questo tuo seminario rispetto alle reti viarie in particolare nel nel Piceno nella zona medio adriatica mi chiedo se non si debba dare maggior peso anche al retroterra italico di questa accumulazione finanziaria di questa espansione economica che certamente è alla base dello sforzo bellico della coalizione del 91 naturalmente sì naturalmente sì che io sappia non si è mai capito da dove arrivassero le enormi ricchezze di Pompeo Strabone però il suo ruolo di più che leader io direi di magnate locale mi sembra sia stato messo bene luce come non pensare che appartenesse a una famiglia che aveva potuto investire capitali derivanti come sappiamo secondo il solito schema dalla proprietà agraria o dall'occupazione di ager publicus e poi investiti in commerci transmarini perché no l'interesse di controllare la costa adriatica che è evidente già nel momento della deduzione di una colonia Civium Romanorum lo sviluppo lo sviluppo di tutte queste località che sono degli approdi alle foci dell'idrografia locale come lo spieghiamo se non con il retroterra italico che investe sul mare come giustamente tu hai rilevato d'altronde non so mi sta venendo in mente adesso i lavori che Monica Chiabà ha fatto sull'onomastica degli aquileiesi che risultano attivi a velo a partire già dalla fine del secondo inizio del primo secolo avanti Cristo ha rivelato che invece che aquileiesi diciamo puri questi sono tutti esponenti di famiglie italiche un ramo delle quali ha partecipato alla operazione colonialia di Aquileia ma alla fine il legame così stretto con quella città sembra in qualche modo passare in secondo ordine rispetto ai legami con la ramificazione che queste famiglie hanno in Italia allora anche quello che ho letto forse l'hai scritto proprio tu o qualcun altro di questi lavori a cui mi sono ispirata il fatto cioè che ci fossero delle disponibilità economiche notevolissime potrebbe avere in un primo tempo questa appunto era già in un certo senso anche un'anticipazione di Gabba pure questa avere in qualche modo far passato in secondo piano la richiesta della cittadinanza cioè le prime quello che conta inizialmente è la certezza di poter continuare a arricchirsi o a mantenere il proprio livello il proprio standard e il proprio status e solo in un secondo momento ci si rende conto che quello che metterebbe in sicurezza tutto ciò è il possesso della cittadinanza romana cosa di cui non ci si accorge perché se è vero come pare essere vero lo dice a piano che i maggiorenti italici hanno partecipato alla grande all'accaparramento dell'ager publicus mai nessuno aveva messo in discussione fino ai gracchi questa loro attività nel momento in cui questo interesse viene messo a rischio è ovvio che si pensa come fare ad assicurarlo ma anche questa è una prova di quello che tu hai detto cioè questa è gente che ha enormi interessi in gioco e questi enormi interessi si traducono poi in una domanda politica ma che è una conseguenza non è cioè perché uno doveva svegliarsi e dire voglio essere cittadino romano va bene sì c'è quel pretore che è un arrogante che mi tratta come un servo ma questo mi succede se sono arruolato in un in un reparto ausiliario e faccio il soldato semplice perché non credo che questo valesse ovviamente per l'ufficialità etnica no? Abbiamo quelle testimonianze di gente che dice che sappiamo tutti quali sono i legami di queste grandi famiglie italiche con l'aristocrazia romana per cui secondo me che la spinta non voglio ritornare al materialismo torelliano di stampo vetero marxista ma la spinta non può che essere una spinta di difesa di interessi ecco però vorrei sentire Mattia Balbo che è l'esperto di queste cose sugli interessi economici Balbo è grazie c'è una domanda in chat di Federica Lazzarini però se posso rubare un secondo a Federica un attimo sono totalmente d'accordo su questa cosa perché l'uso del diritto romano è quello che sembrerebbe favorire meglio con me le attività economiche quindi ci potrebbe essere veramente una richiesta di poter accedere all'uso pieno del diritto romano che avevano solo i romani latini in teoria quindi sì secondo me è totalmente convincente questa ricostruzione totalmente sulle punizioni degli italici l'unico scusate sugli interventi del senato contro gli italici che avevano occupato l'ager pubblico sull'unico caso che mi viene in mente ma molto limitato riguardo l'ager campanus prima dei gracchi le famose ricognizioni di postumio e dopo il pretore lentulo però appunto l'ager campanus che è una storia un po' a parte lì non si è mai capito chi abbiano colpito non era veramente facile capire chi fossero coloro che l'avevano occupato abusivamente con cui un consolo e un pretore vanno a intervenire però appunto l'ager campanus non voglio sottrarre spazio ai colleghi che vogliono parlare però se non ricordo male Appiano non parla lui di lager campanus ma parla proprio di italici da Appiano si ha l'impressione che a un bel momento Druso gli offra il diritto pieno per dare come possiamo dire un qualche risarcimento perché erano stati coinvolti nei tentativi di recupero dell'ager publicus senz'altro senz'altro io pensavo all'età pre-gracana ci sono passi di Libio che parlano di queste ricognizioni appunto fatte perché i privati avevano occupato l'agro pubblico e lì però appunto non sapevamo chi fossero mentre Appiano invece li qualifica socialmente chiaro perché l'ultima volta non funzionava non sapevo perché grazie mille professoressa per la sua lezione veramente stimolante e interessante mi ha fatto venire in mente l'approccio su cui insiste sempre il giornalista Tim Marshall che ha scritto fra le altre cose Prisoners of Geography e tende a ricordare che spesso cerchiamo di dare spiegazioni ad eventi guardando molto da vicino lui dice ma no guardate la geografia ci sono dei monti insomma la geopolitica a volte si può spiegare voglio dire lo trovo una spiegazione molto di buon senso molto persuasiva avrei una domanda che in un certo senso è un po' il risvolto della domanda che ha posto invece Manfredi Zanin per quanto riguarda il fattore etnico se davvero allora mi chiedevo come può cambiare o come può essere rimesso in discussione questo discorso per quanto riguarda il versante romano lei sostiene che questo discorso del fattore etnico identitario come motivo o come spinta come motivazione alla base debba essere rimesso in discussione mi sembra anche molto persuasivo sto pensando adesso che le fonti che raccontano la storia dalla parte dei vincitori naturalmente mi sembra che insistano molto anche sull'aspetto proprio etnico come uno di quelli più traumatici della guerra e allora mi chiedo se le chiedo se a suo giudizio si tratti già lì già per quanto riguarda le fonti romane di una sovrastruttura una costruzione fatta a posteriori che non rispetta davvero la realtà delle cose oppure se siamo noi che stiamo leggendo anche queste fonti alla luce di una sovrastruttura che non è che non si basa sui fatti reali guardi grazie della domanda che a mio parere coglie un punto cruciale giustamente nella nel suo saggio sui People of Ancient Italy Federico Sant'Angelo dice guardate che noi di fonti sulla guerra sociale abbiamo un decimo di quello che probabilmente è stato scritto ci mancano i tre famosi Lucullo quelli per esempio Strabone potrebbe anche aver utilizzato uno di loro perché se Lucullo ha veramente scritto in greco io mi convinco sempre di più che Strabone legge solo greci si si legge solo greco insomma si va a vedere le fonti itinerarie romane solo per le distanze fra una fra una città e l'altra quindi quali sono le nostre fonti sulla guerra sociale abbiamo a piano di cui ancora non siamo sicuri da chi attingesse va bene c'è senz'altro Asigno Poglione ma anche lui è un signore che scrive nel secondo secolo dopo Cristo di che cosa si serve e quindi l'altra fonte che noi abbiamo chi è che ci descrive i popoli italici lei si è mai posta questo problema ce li descrive Strabone e ce li descrive appunto per regioni che sono le regioni attraversate dalle strade determinate dalle strade e naturalmente non fa il minimo cenno alle regioni augustee che sono attestate soltanto da Plinio Plinio fa un elenco di popoli e di città e addirittura per certe parti dell'Italia penso al nord la sua fonte è Catone cioè Plinio è un signore che scrive negli anni 60-70 del primo secolo e che per avere informazioni sui determinati popoli si appoggia a una fonte della metà del secondo secolo avanti Cristo c'è un signore che ha scritto 200 anni prima di lui lo dice testualmente qui io seguo Catone ma lo dice parecchie volte allora ancora una volta io mi dico questa mi dico mi chiedo perché è quello che chiede lei penso che ce lo chiediamo tutti e nessuno di noi ha una risposta ma questa rappresentazione dei popoli italici valorosissimi che hanno combattuto i romani tre volte si sono accorti quanto erano forti quando li hanno sconfitti la prima volta quando hanno combattuto al loro fianco nelle loro guerre conquistando l'impero e poi quando se li sono trovati davanti come nemici io mi chiedo se non derivi tutta questa rappresentazione da una volontà di ricomposizione conciliatoria che è quella che sta sotto alla costruzione della Totta Italia di Augusto la necessità cioè di ricomporre i pezzi di un vaso che era andato in frantumi e che quindi viene reinterpretata con l'idea siamo tutti insieme affratellati in Italia però poco prima Cicerone aveva dovuto spiegare guardate che noi di patria ne abbiamo due abbiamo quella di natura e abbiamo quella che è Roma non l'Italia Roma quindi questa idea dell'Italia madre di tutte le genti non vorrei essere come posso dire esagerare nella così con il demone del decostruttivismo che ci annienta le fonti e ci porta a dire non dobbiamo credere a quello che nessuna dice però obiettivamente a me puzza a me puzza di una visione una rappresentazione che è quella che si vuole dare di un paese che invece resta profondamente diviso profondamente diverso che queste diversità fossero etniche ho qualche dubbio sono diversità municipali sono diversità locali è un puzzle fatto di essere più piccole le regioni io mi permetto di dire non esistono come non esistono nell'Italia di oggi perché ce l'ha spiegato Carlo Cattaneo l'Italia la storia d'Italia è una storia di città e qualunque italiano lo sa che poi non c'è nessun peggior nemico del confinante per cui il pisano odia il livornese il torinese odia il cuneese eccetera 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 quindi pensiamoci prima di accettare una rappresentazione strabone alla fine cosa dice molti di questi popoli non ci sono più ma invece gli subri ci sono ancora oggi abitano a Mediolanium e ci aveva detto che li avevamo sterminati i boi non ci sono più li abbiamo cacciati via allora perché facciamo una colonia e la chiamiamo Bononia se non ci sono dei boi che partecipano all'operazione coloniale quindi io non so più invecchio meno credo ecco non so se ho risposto no abbia pazienza assolutamente grazie grazie davvero anche da parte mia davvero Roman prego over to you grazie va bene se parlo in inglese certo ok well I have a comment more than a question thank you very much ma sento malissimo yeah sorry I turned out my volume thank you very much I really enjoyed your paper and yeah I just have a comment rather than a question I'm looking at your maps particularly of the east of Italy and it also happens to work more in the southwestern areas it works quite well with the archaeology and I'm thinking of what was said in response to the previous question about the economy if we look at the emergence of the amphora particularly oil amphora in those areas you can see sort of these very interesting very sort of localised economies that appear to where a lot of money was invested and it appears to sort of cut into both citizen territories and allied territories including the Latin colony so it's very much connected but it's sort of I would say at a sort of sub-regional level if we if you say region if you define the region in a large on large scales rather kind of smaller sub-regions where you seem to have a very a very well connected network of producers but also of then of course merchants and then of course these this sort of starts to happen from the early second century BC when particularly the eastern Mediterranean markets become open so I think your model works works very well also when other forms of evidence are tied in thank you thank you to you because it's really interesting what you are saying if you say I didn't understand which area were you talking about particularly well I mean it always depends a little bit on the on this on the studies not the density of the studies if you go a little further south to to Puglia you have the oil industry but if you're looking at Pascenum you will you have this emergence of of what appears to be a relatively intensive wine industry and you see the emergence of dedicated amphora shapes we also have we also have in the south of 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 Lasham and Campania you have both oil oil mostly the delirious area and further south the wine industry again where you sudden it's unprecedented the emergence of very recognizably specialized transport containers which we see across the Mediterranean with relatively targeted distributions to an extent that you didn't have before so where it's much more scattered much more random so this I think the emergence of these Mediterranean markets that we can see in the inscriptions also we can see it more indirectly in the literature but the archaeology I think really helps this year I think you know complement the picture which you've drawn through geography I really I really enjoyed that thank you very much oh thank you to you and it's very interesting what you were saying about the Mediterranean coast so another network which is westward thank you and and if I understood I think really second century BC should have seen something like an economical revolution I mean with the opening of this enormous Mediterranean market and that's it's really the turning point in the status I think of the Italian italic aristocracies that that is the point when they become very rich thank you molte grazie altri interventi osservazioni io devo dire mi rendo conto dell'ora e quindi non voglio dilungarmi ma ho una curiosità però penso sia una curiosità che forse sia condivisa anche da altri in questa tua lettura della guerra sociale e del contesto storico in cui emerge come si può inserire se si può inserire in qualche modo il modello terrenato e cioè questa idea per cui legimonia romana sostanzialmente in Italia sostanzialmente l'esito di una di un grande accomodamento come lo chiama lui fra elite romana ed elite ed elite locale quadro contestato come è ben noto anche autorevolmente ma certamente un quadro storiograficamente significativo non c'è dubbio non c'è dubbio io però mi faccio un'altra domanda proprio stimolata da questa visione che ha terrenato che cos'è l'elite romana nel secondo secolo avanti Cristo e che cos'è l'elite italica cioè siamo sicuri che si arrivi a una negoziazione no? poi di fatto questo è quello che lui dice quando io ho sempre più l'impressione che abbiamo una condivisione di interessi che è dovuta appunto a una serie di rapporti forse noi siamo un po' stati tutti condizionati nella storia della nostra formazione da quest'idea dell'espansione romana dei romani che vanno e si allargano in Italia e conquistano e quindi da lì tutta la questione della romanizzazione romanizzazione sì romanizzazione no a me sembra che quello che stia saltando fuori negli ultimi decenni grazie soprattutto appunto agli archeologi è che ci sia in qualche modo nel secondo secolo ci sia una qualche coine che più che definibile squisitamente romana è più corretto dire romano-italica quindi a questo punto non parlo poi di quello che succede dopo quando con l'emergere dai gracchi in poi dello scontro sociale però noi guardiamo anche da dove saltano fuori questi warlords che poi si si scontrano che cosa hanno alle spalle cioè da dove sono le loro clientele dove sono i loro appoggi e e a questo punto io mi sono non lo so non mi sembra così contrastante il modello terrenato se lo guardiamo in quest'ottica ecco non so cosa ne pensi è proprio la mia impressione però non volevo sovrainterpretare quanto mi dice proprio in linea con l'impressione che mi ero che mi ero fatto ascoltare mi fa tanto piacere da posizioni diverse poi alla fine se non siamo condizionati vediamo tutti le stesse cose dipende come come le chiamiamo molte grazie ancora qualche domanda qualche intervento della pazienza dell'attenzione grazie molte è davvero è stata davvero una discussione di non solo di di altissimo livello ma davvero di profonda originalità in vari in vari aspetti e davvero ci lascia molto materiale su cui riflettere te ne siamo molto riconoscenti e davvero davvero molte grazie grazie a tutti voi per esservi collegati ci ritroviamo fra due settimane con l'ultimo seminario prima della pausa natalizia Tibona Franchini grazie buonasera e grazie ancora grazie a tutti ciao a tutti grazie grazie